Benzina più cara si dimezza lo sconto, un rialzo delle accise di 10 centimetri con IVA rincaro sale a 12,2 centesimi al litro. Di che si tratta? Benzina più cara, dalla mezzanotte si dimezza lo sconto sui carburanti con l'aumento delle accise su benzina, gasolio, GPL. Un provvedimento a favore del popolo, un rialzo di 10 centesimi previsto dal governo Meloni con il decreto accise dello scorso 23 novembre, scrive l'agenzia ANSA, ma il rincaro sui rifornimenti sarà maggiore se si considera che sulle accise si applica anche l'IVA al 22%, l'aumento del prezzo alla pompa per benzina e diesel sarà di 12,2 centesimi al litro. Una manovra popolare, giusto appunto, e per le casse dello Stato il rialzo delle accise si tradurrà in un gettito di 317 milioni di euro in più nel solo mese di dicembre. Fare il calcolo a Soutenti che stima gli effetti del dimezzamento del taglio sulle accise per l'erario, considerando una media di due pieni mensili a famiglia. Marciando al ritmo di 317 milioni in più al mese, in un anno finiranno nelle casse dello Stato circa 3,8 miliardi in più. Non è il taglio delle tasse, è l'aumento delle tasse. Nel dettaglio, dal primo dicembre le accise sulla benzina saliranno da 47,84 a 57,84 centesimi al litro, sul gasolio da 36,74 a 46,74. GPL da 18,26 a 26,67 centesimi al litro. Questo significa che la benzina in modalità servito passerà da una media di 1,801 euro al litro a 1,923 domani, mentre il gasolio da 1,885 supererà i 2 euro, 2,007 euro al litro, sfondando appunto la soglia psicologica dei 2 euro. Per il self, i prezzi alla pompa della verde passeranno da 1,65 euro al litro di oggi a 1,772 domani. Il diesel da 1,733 euro al litro a 1,855 euro al litro. Dalla mezzanotte si dimezza lo sconto sui carburanti. Un bel provvedimento simpatico che farà piacere al popolo. Mentre cambia il decreto rave, sono escluse le manifestazioni, arriva l'emendamento del governo che riscrive il testo e limita il reato a chi organizza promuove l'invasione arbitraria di terreni, eccetera, eccetera. Insomma, ennesimo cambiamento sul decreto rave. Ancora, dalla prima pagina dell'agenzia Ansa di Stamani è morto l'ex leader cinese Yang Zemin, deceduto all'età di 96 anni, fu messo lì dopo Tiananmen, ucciso il capo dell'Isis in Siria. Annunciato il nuovo leader, Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi, sarà il quarto capo dello Stato islamico dopo l'uccisione con un raid statunitense dell'attuale leader. Con questo lasciamo la prima pagina dell'agenzia Ansa e rapidamente andiamo al primo piano di Sussidiario.net. Dalla prossima settimana poi avremo una rubrica fissa anche con gli amici e colleghi del Sussidiario.net, una delle testate dove si trovano molti spunti di riflessione fuori dal solito giro dei media normali, soprattutto per quanto concerne l'economia. Oggi abbiamo quattro articoli di stampo economico molto interessanti e il focus su Andrea Costantino. Io arrestato dagli Emirati nel 2021 per colpa di Di Maio. Il governo mi aiuti è il titolo del Sussidiario.net. Il caso di Andrea Costantino da 20 mesi in carcere negli Emirati. Paga gli errori sciagurati dell'allora ministro Di Maio che ha provocato una rottura con Abu Dhabi. È una situazione kafkiana, scrive il Sussidiario.net. L'intervista è realizzata da Paolo Vites ed è in prima pagina, in home page. Una situazione che ricorda la vicenda un po' in cui furono vittime i due Marò in India. È la situazione in cui si trova da oltre un anno e mezzo l'imprenditore italiano Andrea Costantino è impossibilitato a lasciare gli Emirati Arabi uniti dopo aver trascorso diverso tempo in carcere. Entrambi i casi sono imputabili a una cattiva gestione della politica estera e diplomatica italiana. Incapacità che genera autentici mostri. Arrestato il 21 marzo del 2021 con l'accusa di aver fatto pervenire aiuti a quelli che per gli Emirati Arabi sono considerati terroristi, la fazione Houthi nello Yemen, Costantino viene rinchiuso in carcere per mesi senza contatti con i familiari o con le nostre autorità diplomatiche. Le condizioni sono terribili. Non ho potuto comunicare con la mia famiglia per 68 giorni. Hanno autorizzato una prima visita dopo 30 giorni, non dell'ambasciatore italiano ma di un segretario qualunque. Cosa che non succede mai, racconta Costantino nell'intervista a il sussidiario.net. La cella dove mi hanno rinchiuso misurava 15 metri quadri. Doveva tenere 4 persone, eravamo in 14, senza finestre, senza bagno. Mangiavo per terra il cibo tra lo sterco dei topi. I bisogni li facevamo nei sacchetti. Le docce erano un corridoio lungo 34 metri per un metro e mezzo di larghezza. Eravamo in 127 di fatto latrine, in cui dovevamo stare ammassati con un buco dall'alto da cui scendeva l'acqua. Altre cose non posso raccontarle, ma porto le cicatrici fisiche e mentali. Dopo la visita negli Emirati del Presidente della Repubblica, Mattarella, la situazione per Costantino cambia. A lui, confida, Costantino farei costruire un'icona vicino a quella di Santa Rosalia a Palermo. Viene trasferito in una depandasse dell'ambasciata italiana, ma non può comunque lasciare il paese, dove si trova per ragioni puramente politiche che hanno a che fare con le decisioni prese dall'allora Ministro degli Esteri Di Maio. Arrestato il 21 marzo del 21, alcuni mesi dopo che l'allora governo Conte decide di dichiarare un embargo della vendita di armi agli Emirati, nonostante questi si fossero già da due anni tirati fuori dalla guerra in Yemen. La decisione apre una gravissima crisi politica fra i due paesi. Tutti ricordano, dice l'intervistatore, il divieto di fare scalo negli Emirati all'aereo dei giornalisti italiani che si dovevano recare in Afghanistan per la chiusura della base militare. Anche lei è una pedina di questa crisi? Domanda il sussidiario. Risponde Andrea Costantino. E l'unica spiegazione che posso darmi è stata anche confermata un giorno fa da un messaggio dell'ambasciata degli Emirati Arabi in cui si dice che il mio rilascio per loro non è questione di denaro, ma questione politica di principio. Perché a lei per lasciare il paese è stata combinata una sanzione? Con il problema che mi hanno vietato di poter ricevere soldi dall'estero. Quindi mi hanno bloccato qui. Precisa Costantino. Torniamo alla crisi diplomatica. Lei ritiene di essere stato usato come ostaggio in una sorta di vendetta diplomatica e politica? Il mio arresto, risponde Costantino, è legato alle pessime, direi ormai compromesse, relazioni diplomatiche fra Italia e Emirati. L'allora ministro Di Maio ha rotto a inizio 21 un contratto che esisteva dal 2016 relativo alla vendita di armi agli Emirati Arabi Uniti, provocando così la loro reazione. Non è un caso infrequente nei paesi del Golfo o in Russia arrestare persone per usarle nelle trattative per scambi politici con accuse inesistenti. Di Maio, secondo lei, domanda ancora il sussidiario, avrà vietato la vendita di armi per far contenti i suoi elettori di area pacifista o per scarsa visione politica? Francamente la domanda che farei è «Cosa ti ho fatto?» risponde Costantino. «Perché ti accanisci contro di me?» Di Maio, sulla stampa che ho potuto tornare a leggere una volta uscito dalla cella, viene descritto come un andreottiano, il che farebbe rivoltare nella tomba Andreotti. Ma è vero che è un perfetto Doroteo, di matrice democristiana, ha piazzato uomini suoi dappertutto. Che interessi personali abbia? Non so. Farà anche la parte del buono che non vende più le armi. Ma apparire pacifista e poi fare dichiarazioni pro-Iran, di cui nessuno ha parlato, non è una bella cosa. Sono apparse sul sito del Ministero degli Interni iraniano. Solo adesso l'Unione Europea ne sta venendo a sapere con grande imbarazzo, dopo che ne ho parlato io. Di Maio ha dichiarato il suo sostegno all'Iran nel programma nucleare e a sostegno al regime nella repressione dei terroristi così definiti, quelli che manifestano per le strade. Sono cose che solo gli Ayatollah dicono, accusando gli Stati Uniti di creare caos, manipolando la popolazione. Tornando al suo arresto, lei viene accusato di avere aiutato i ribelli Uti. Cos'è successo davvero? Avevo inviato un carico umanitario di gas, con la precisa autorizzazione delle autorità marittime e militari degli Emirati. In Yemen c'è il blocco dei porti. Senza autorizzazione, nessuna nave può entrare. Il mio carico era diretto alla compagnia petrolifera statale iemenita, controllata da Arabia Saudita e Emirati. Quindi tutto regolare, ma è stato accusato di aver inviato armi ai ribelli. Con che prove? Nessuna. Si sono basati, racconta Costantino, sui sentito dire raccolti dall'accusa. Solo dopo 60 giorni di detenzione, l'ambasciatore italiano è venuto a visitarmi, dicendo che nel mio caso la politica non c'entrava nulla e non potevano fare niente. Mi ha tolto ogni speranza, dopo una settimana mi hanno concesso di fare la prima telefonata alla mia compagna. L'ufficiale mi dice, mi raccomando, ricordati di dire quello che ti abbiamo detto, cioè cosa? Che non era una questione che riguardava me, ma problemi di relazione tra Emirati e Italia. Il contrario di quello che aveva detto l'ambasciatore allo stesso Costantino. Infatti al processo vengo accusato in base all'articolo 228 del codice penale degli Emirati, supremi interessi nazionali. Dopodiché viene stabilita una sanzione da pagare. Emessi due mandati di arresto nei miei confronti. Nel frattempo, grazie al Presidente della Repubblica, sono stato trasferito nell'ambasciata italiana. Poco dopo la vittoria elettorale di Giorgia Meloni viene emesso un terzo mandato di cattura. Succede una cosa stranissima. Quando Meloni vince le elezioni, ancora prima che diventi capo del governo, il Presidente degli Emirati scrive un tweet per congratularsi. Una cosa mai successa. Non ci si congratula con un leader di partito. Giorgia Meloni, tempo fa si era spesa a mio favore, registrando un video in cui si parlava del mio caso. Dall'Italia nessun messaggio, ma l'ambasciatore viene richiamato e sostituito. Una cosa gravissima è che si fa solo in casi molto gravi. Gli Emirati dicono che le relazioni sono cambiate in meglio. L'Avvocato mi dice che il Capo della Procura ha stabilito che posso pagare il 50% della sanzione e essere rilasciato. Chiedo se me lo mettono per iscritto, rispondono di no. Anzi, dicono che se non pago entro due giorni emettono un terzo mandato di arresto. Il nuovo Ministro degli Esteri, Tajani, si è fatto sentire? Assolutamente no, risponde Costantino. So che ha telefonato per altri casi, ma non ha sollevato il mio. Con me, con la mia compagna, non si è mai fatto sentire. Anzi, lei gli ha chiesto un appuntamento. Lui ha fatto dire che non aveva tempo. Vengo poi a sapere che uno dei due vicepremier si preoccupa del mio caso. Vengo a sapere che Tajani ha fatto presente la mia vicenda alle autorità. Intanto Luigi Di Maio viene indicato, la nomina è ancora da ratificare, come inviato speciale europeo nei paesi del Golfo Persico. Proposta che fa infuriare gli Emirati Arabi Uniti. Il National News, principale quotidiano del paese, controllato dal governo, scrive un commento molto acido in cui dicono che non sanno che senso dell'umorismo abbiano gli europei, perché Di Maio da solo è riuscito a distruggere le relazioni con l'Arabia Saudita e il nostro paese. Sia Salvini che Tajani confermano che la proposta non è arrivata da loro. Ma da chi allora? È probabile, conclude Andrea Costantino, nella sua conversazione con il sussidiario.net, la trovate in home page, che ci sia una parte del governo che lo sostiene. Qualcuno che non lavora per gli interessi degli italiani. Come ho detto prima, gli Emirati hanno inviato un messaggio preciso all'Italia. In mio caso è una questione politica di principio. Come mai un messaggio così chiaro non è recepito dal governo? Chi blocca tutto? Forse perché interviene l'intervistatore, il suo caso metterebbe a rischio la nomina di Di Maio. Ma perché, conclude Costantino, devo pagarne io le conseguenze? Devo forse combattere anche contro lo Stato italiano? La democrazia non è solo l'esercizio del voto, è anche esercizio della giustizia e della verità. Su il sussidiario.net, il caso di Andrea Costantino. Ma velocemente andiamo alle altre notizie di agenzia, prima delle prime pagine. Intanto una notizia utile, purtroppo, per molte persone. Alzheimer è stato individuato il vero colpevole della malattia, racconta l'agenzia Agi. I ricercatori di Yale hanno identificato un biomarcatore che potrebbe aiutare i medici a diagnosticare meglio l'Alzheimer e fornire un bersaglio per terapie future. La notizia è riportata sulla rivista Nature. E sempre sull'Agi, in tema di Alzheimer, un test attraverso le urine in modo semplice individua la malattia in fase iniziale. La scoperta è stata pubblicata su Frontiers in Aging Neuroscience e, secondo gli autori, un team di ricercatori cinese apre la strada a uno screening veloce, facile, economico. Le due notizie su questa malattia, che purtroppo colpisce molte persone, le trovate sull'agenzia Agi. Cambiando argomento, sempre sull'Agi, parla per Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, deputato, sulla questione della manovra e della finanziaria. Ci sono comunque, nonostante la difficoltà di una manovra fatta, di bilancio fatta, in una situazione complicata, ci sono i titoli di tutte le principali questioni che sono state declinate nel programma elettorale del centro-destra. La tassa piatta sui redditi incrementali è il 15%, per incoraggiare le imprese a crescere, perché sulla crescita rispetto all'anno precedente pagano una cifra simbolica di tassazione. L'aumento sempre della tassa piatta da 65 a 85 mila euro l'anno. C'è, diciamo così, la prospettiva rispetto al reddito di cittadinanza di continuare a soccorrere con politiche assistenziali le persone inabili al lavoro, quindi tutti i soggetti deboli, ma contestualmente si dice a chi è abile al lavoro che deve lavorare e lo Stato produrrà occasioni di lavoro. Non è una petizione di principio, perché questa dichiarazione viene accompagnata dal fatto che lo slogan utilizzato in campagna elettorale, più assumi meno paghi, si è trasformato in un provvedimento nella legge di bilancio. Sulle nuove assunzioni non si pagheranno tasse e quindi questo è un incentivo alle imprese ad assumere ed è una politica che produrrà nuovi posti di lavoro, politica che peraltro interverrà anche sulla trasformazione a tasso zero dei contratti di lavoro a tempo determinato per far diventare a tempo indeterminato. Ci sarebbe molto ancora da parlare, però secondo me questi provvedimenti già delineano, diciamo così, la stagione della nuova capacità produttiva dell'Italia. Così rampelli sulla manovra. Sulla manovra c'è l'intervista anche, torniamo al sussidiario.net, al sottosegretario leghista Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro. Chi vuole il salario minimo non può gridare contro i voucher e il nostro reddito di cittadinanza. Quota 103, preferisco chiamarla quota 41, che per la Lega ha la soluzione migliore nell'ottica di una riforma previdenziale complessiva. In questa manovra abbiamo fatto solo il primo passo. Reddito di cittadinanza, vogliamo puntare con decisioni su politiche attive per evitare che il reddito sia distribuito indiscriminatamente. Vogliamo coinvolgere agenzie per il lavoro, comuni terzo settore, per contrastare la povertà e implementare l'incontro. Fra domanda e offerta, reintroduzione voucher turismo e agricoltura, l'abbiamo fatto semplicemente perché servono, ce lo chiedono interi settori che hanno lavori stagionali e saltuari, dice il sottosegretario al lavoro Durigon, che sintetizza, scrive il sussidiario, la Razio, che ha spinto il governo Meloni a intervenire su tre temi chiave, welfare, lavoro e previdenza, nella prima manovra, che sta per arrivare in Parlamento, partendo dalle pensioni. pensioni. Non passa anno che non si modifichino le regole di pensionamento. Dal 19 al 21 quota 100, nel 22 quota 102, nel 23 quota 103. Pensione anticipata, flessibile, 41 anni di contributi, 62 d'età. Perché questa quota? Per me, risponde Durigon, non è quota 103, ma quota 41. 41 più 62 che poi fa 103. Ma, ad ogni modo, per noi è la soluzione migliore. Anche se poi nella formula è stata aggiunta anche l'età. 61, 62 anzi. 41 più 62. Abbiamo iniziato, nel più breve tempo possibile, un percorso, ma questo percorso inizia a ridosso della legge di bilancio, impegnata, tra l'altro, sull'emergenza del momento, il caro Vollette. Quindi abbiamo voluto da subito lasciare il segno sulla direzione per non tornare alla legge Fornero con un'altra finestra per uscire dal mercato del lavoro. I passi successivi saranno condivisi con le organizzazioni sindacali e datoriali. L'incentivo a rimanere oltre quota 103 serve ad asciugare un po' il mercato in uscita, concentrandolo su persone che non hanno più nulla da dire al mercato del lavoro e consentendo la sostituzione, aiutando le aziende. Punto di partenza è questo qui, sulla questione delle pensioni. Tutto il resto l'abbiamo riassunto prima. A proposito di interviste, c'è da segnalare sul messaggero di Roma l'intervista a Matteo Salvini centrata sulla capitale, su Roma. Modello Genova anche per l'Expo 2030. Una capitale, dice Matteo Salvini, deve vivere di grandi eventi internazionali. Oltre il giubileo 2025, il governo punterà forte su Roma per l'Expo 2030, applicando il modello Genova per sbloccare cantieri e realizzare grandi opere senza sprechi in tempi ragionevoli, dice Matteo Salvini. All'indomani dell'inserimento in manovra di 2 miliardi e passa di euro per la metro C di Roma. Vedrà il sindaco Gualtieri il 6 dicembre, Salvini. Sul tavolo, con o senza Expo, anche un pacchetto Roma, pacchetto Lazio, con 400 milioni per la salaria, 700 per l'acquedotto peschiera, un miliardo per il 23, manutenzione ordinaria e straordinaria della A24-A25. Su questi temi, prettamente romani, l'intervista al messaggero di Roma, giusto appunto. Mentre, a proposito di Matteo Salvini, sull'altro quotidiano romano, Il Tempo, le ONG, le organizzazioni non governative, portano a processo Salvini al Tribunale dell'AIA. Le CCHR, sostenuta dalla Sea-Watch, ricorre alla Corte Penale Internazionale dell'AIA, quella per i crimini internazionali appunto. Denunciati anche Minniti, l'ex ministro, e Mogherini, ex ministra anche lei, per crimini contro l'umanità nei confronti di migranti e rifugiati. Salvini, Minniti, Mogherini, i tre politici italiani e altri funzionari, denunciati alla Corte Penale Internazionale dalla European Center for Constitutional and Human Rights, e CCHR, affinché questa indaghi, la Corte, su crimini contro l'umanità. Le CCHR è una ONG di giuristi con sede a Berlino. Si occupa di diritti umani e ha messo a punto un dossier col sostegno di un'altra organizzazione non governativa, la Sea-Watch, quella famosa per le navi di migranti nel Mediterraneo. hanno denunciato Salvini, oltre che Minniti e Mogherini, al Tribunale dell'AIA, Tribunale Penale Internazionale. A proposito di migranti, c'è una foto, candidato del PD alla regione Lombardia, Maiorino, con Marie-Therese Mucca Mizzindo, una delle suocere più famose d'Italia al momento, la suocera del deputato con gli stivali, Sumaoro. Il modello Maiorino, i Sumaoro, che imbarazzo compagni, scrive Libero. Il candidato PD per la Lombardia aveva indicato l'esperienza della cooperativa Sumaorica come esempio da seguire per l'accoglienza dei migranti, arrivando a invitare la suocera del deputato di sinistra a un incontro a Bruxelles. Un esempio del fiuto del PD, scrive. Anzi, ironizza Libero. Mentre torniamo ai temi economici con l'intervista sulla stampa di Torino, pagina 7, a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, prima più libertà per i contanti, poi torneremo sulla previdenza. La vera priorità è l'energia, per i pagamenti coi post, le commissioni bancarie sono troppo alte, rate per le cartelle sopra i 1000 euro, perché la gente non può pagare. L'impianto della legge di bilancio è giusto, dice Molinari, i margini di correzione sono stretti, le risorse a disposizione sono poche, il grosso è stato messo per il caro energia. C'è sempre qualcosa da migliorare. Non ci soddisfa il capitolo pensioni. Era importante riconfermare Ape Sociale, opzione donna. Abbiamo dato un segnale sulla Fornero con anticipo di quota 41 per 50.000 pensionandi. Nel programma avevamo quota 41 per tutti, ma per esigenze di bilancio non ci si potrà mettere mano adesso. Per quanto concerne il futuro, c'è l'impegno, dice Molinari, a tornare sul tema pensioni appena possibile. Stiamo spiegando che la priorità è il caro energia. Facciamo quello che si può. Le opposizioni definiscono questa una manovra pro evasione a partire dal tetto contante alzato a 5000 euro. Non c'è legame tra aumento della soglia del contante e l'evasione. È una questione di libertà. Obbligo di POS per i pagamenti sotto i 60 euro tolto. Il nostro obiettivo, dice Molinari, è andare incontro alle richieste degli esercenti. C'è un problema con le commissioni bancarie troppo alte, tanto da azzerare il profitto dei commercianti in alcuni casi. In tal modo, quando ci siederemo al tavolo con le banche per chiedere di abbassare le commissioni, avremo più forza. Chi compra può scegliere dove comprare. Non deve per forza andare nel negozio dove non si accetta la carta. È una misura che inciderà soprattutto sui negozi di vicinato e non su supermercati o grandi catene. Le cartelle esattoriali. Sopra i 1000 euro si rateizza in 5 anni senza interessi. Segnale negativo a chi paga le tasse? Parliamo di cartelle di gente che non può pagarle, risponde Molinari. Il costo delle procedure di riscossione è alto. Meglio riordinare i bilanci dello Stato. Ci sarà una sanzione del 5%. Dopo il Covid, quei negozi chiusi e queste bollette, se possiamo andare incontro ai contribuenti, lo facciamo. Andrebbe anzi fatta una correzione. Si dovrebbero allungare i termini di rateizzazione oltre i 5 anni. Secondo i commercialisti sono pochi. Un altro tema, comparto sicurezza. Servono più risorse per implementare i corpi di polizia. Poi c'è il capitolo Calenda, che vuol dare una mano alla manovra. Forza Italia chiude la porta. È positivo, risponde Molinari, che l'opposizione abbia questo atteggiamento. Capisco però l'irritazione di Forza Italia, perché Calenda candida in Lombardia Letizia Moratti e rubare voti al centro-destra sarebbe più difficile se avesse con Meloni un atteggiamento pregiudizievole. Lasciamo l'intervista sulla stampa a Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera. C'è la questione che pone invece il tempo, con un'altra intervista a un altro esponente leghista, del Parlamento con meno deputati e meno senatori. Nuove regole e zero risparmi, perché non è che si risparmia. L'avevamo già sottolineato molto prima del taglio dei parlamentari, che non si sarebbe risparmiato nulla se non 4 lire di stipendi ai parlamentari in meno. Ma comunque, in tilt, il Parlamento ridotto scrive il tempo, meno spesa per gli stipendi, ma aumentano gli esborsi per energie e pensioni. Al Senato, commissioni omnibus, al lavoro anche durante le discussioni in aula. Insomma, il taglio dei parlamentari rischia di essere un gran bel caos. Su questo tema si esercita Claudio Borghiaquilini, o meglio, si pronuncia in un'intervista, pagina 3 del Tempo di Roma. Non sarà con noi oggi in diretta, proprio perché i lavori parlamentari si sono incasinati e quindi c'è una convocazione di commissione. In poche parole avremo una registrazione di un intervento di Claudio Borghiaquilini su questo tema, il taglio dei parlamentari. Slalom trasedute, così è impossibile fare il senatore, dice Borghia al tempo, di Roma di stamani. Democrazia dequalificata. Non è stato un grande affare seguire i grillini sul taglio dei parlamentari. Io sto in commissione bilancio, Copasir, sostituisco Calderoli alle politiche agricole. Come posso analizzare e studiare tutti i provvedimenti? La scelta del 2019 è sul taglio. Non partecipai al voto, ero in missione, ma non è che potessi protestare più di tanto, visto che il taglio era nel nostro programma di governo con i Cinque Stelle. Intanto c'è una cosa curiosa su Libero, la foto di Giorgia Meloni molto giovane, un professore alle superiori, un suo professore, il professor Turchetti, per essere molto precisi, Carlo Turchetti, ex professore di economia politica all'Istituto Amerigo Vespucci di Roma, nell'anno della maturità di Giorgia Meloni, la ricorda così, era la prima della classe, è l'unica a cui ho dato nove in economia politica, grande intuito, fu la prima a consegnare il compito della maturità, non fece neanche la brutta coppia, che avesse capacità fuori dalla norma, era evidente. Da studentessa, ricorda il suo professore, quello di Giorgia Meloni, il professor Turchetti, capiva tutto al volo, era eccellente, le ho dato anche un nove in economia politica, che non ho dato quasi mai, prese 60 sessantesimi alla maturità, che per capacità fosse fuori dalla norma, era evidente, alla maturità consegnò per prima e senza utilizzare brutta copia, stupì tutta la commissione. L'eccellente studentessa Giorgia Meloni, eccellente anche per l'ex presidente della Camera, PD, PCPDS e PD, Luciano Violante, la Meloni sta fondando il nuovo PCI italiano, partito conservatore italiano, è interessante la costruzione di un moderno partito conservatore, dice Luciano Violante, intervistato da Libero, Saviano, dire bastarda a una premier è un'offesa, non una critica, Giorgia Meloni sta costruendo un vero PC, cioè un partito conservatore italiano, senza fascismi, senza localismi, PC, partito conservatore italiano, suona bene, certo quella sigla, ricorda il suo PC, quello comunista di Violante, la carta si può cambiare, la costituzione più bella del mondo, ma con piccoli accorgimenti, per la stabilità, come il voto del Parlamento, in seduta comune, sul bilancio e la sfiducia costruttiva, così Luciano Violante, lodando Giorgia Meloni, sul sussidiario, a proposito di economia, vi citavo gli articoli dedicati al tema economico, molto interessanti, stamani, il primo sull'inflazione, più 11,8%, cibo e casa, gli aumenti che non danno scampo, alla classe media, l'inflazione in Italia resta a doppia cifra, a pagare il prezzo più alto, la classe media, quel che rimane, e l'arrivo di una recessione, non aiuta a risolvere il problema, scrive Paolo Annoni, altro articolo di Stefano Masa, sull'inflazione, l'anomalia italiana, in un'Europa che vede il calo dei prezzi, ieri, Eurostat ha evidenziato un calo dell'inflazione, nell'eurozona, a novembre. Nel nostro paese, invece, non c'è stata inversione di rotta. E poi c'è un pezzo di Giuseppe Sabella sull'Exilva, la domanda, cosa vuol fare il governo della siderurgia italiana? La situazione a Exilva di Taranto si aggrava, ulteriormente, per il governo si tratta di fare una scelta strategica, che va oltre il tema delle risorse necessarie. Mentre, cambiando argomento, tra le cose del giorno, la DN Kronos, che pubblica un documento di cinquanta minuti, chiedo scusa, di cinque minuti e passa, che è praticamente la conversazione, la conversazione del Cardinale Becciu con il Papa. Pubblica l'audio integrale, la DN Kronos, della conversazione con Papa Francesco, registrata all'insaputa del Pontefice, dal Cardinale Angelo Becciu, il 24 luglio del 2021, poco dopo le dimissioni di Bergoglio dall'ospedale, dove aveva subito una complessa operazione. La DN Kronos pubblica in esclusiva sul suo sito l'audio di questa conversazione, registrata all'insaputa del Papa, e che adesso si sta rivelando un autogol, o comunque uno sgambetto, ai danni del Cardinale. Potete ascoltarvela sul sito della DN Kronos, anche questa è una novità, è un segno dei tempi, diciamo così. Il Papa ha intercettato la sua insaputa da un Cardinale, mentre nel sud della Cina si infiamma la protesta anti-lockdown, scrive invece l'agenzia AGI, e la polizia carica i manifestanti. Arresti a Canton, per chi manifesta contro le restrizioni imposte dalla politica di tolleranza zero a Covid. Circolano video sui social degli agenti che abbattono barricate arancioni e blu. A un anno dal voto, invece, scrive Dagospia, riprendendo un suo proprio articolo, anzi pubblicando un suo proprio articolo, un Dago Report, a un anno dal voto, la candidatura di Roma, per Expo 2030, la possiamo mettere nel cassetto dei sogni. Infranti, la città vincitrice sarà Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Oltre a un patrimonio personale di 550 miliardi cash, MBS, Mohammed Bin Zalman, si avvale dell'opera di un senatore della Repubblica Italiana, tale Renzi Matteo, nel ruolo di conferenziere, ma in giro per il mondo, a delucidare il rinascimento arabo. Sia chiaro, Renzi non viola alcuna legge, facendo parte del Consiglio di amministrazione e del board di un ente finanziato dal Fondo Sovrano Saudita. Trattasi solo di un fatto di opportunità, per un ex premier, oggi senatore, quindi rappresentante apicale, delle istituzioni italiane, e di Bin Zalman, coinvolto nel caso dell'uccisione del giornalista saudita, a Cascioggi. Sentite cosa rispondeva Matteuccio nel 2021. Segue l'intervista al Renzi d'Arabia, e sempre su Dago Spia, da un lancio di agenzia ANSA, il caso della raffineria di Priolo, in Sicilia, col greggio alla gola, il governo sta studiando il modo per salvare la raffineria Isab di Priolo, di proprietà della russa Lukoil, che rischia la chiusura per via dell'embargo europeo al petrolio di Mosca, il 5 dicembre. L'ipotesi è inserire le raffinerie tra le infrastrutture critiche di rilevanza strategica nazionale, con la possibilità di porle in amministrazione fiduciaria temporanea. Un bel po' della benzina che circola in Italia viene da lì. Intanto abbiamo scherzato, il decreto sui rave cambia completamente, sarà applicato solo ai raduni musicali. Per applicare la nuova norma dovrà essere concreto il pericolo per la salute o l'incolumità pubblica. Gli organizzatori punibili con la reclusione fino a sei anni ma non potranno essere intercettati. Il ministro di giustizia Nordio ha detto che una legge scritta bene è di facile applicazione. Possiamo fare una certa autocritica, nessuno è perfetto, si può sempre rimediare, quindi il decreto rave cambia. Intanto, sempre dall'agenzia AGI, una curiosa notizia che riguarda l'attrazione, il potere di attrazione di Roma e Milano per chi deve lavorarci, è bella ma non ci lavorerei. Gli expatriati dicono così, sia di Roma che di Milano. I professionisti al servizio di aziende che si trasferiscono in Italia si trovano ad avere a che fare con una burocrazia complicata e con la mancanza di prospettive di carriera. Forza Italia, mica tanto. Qual è il progetto del governo Meloni su Team e Open Fiber? se lo domanda su Start Magazine, se lo domandano Michele Arnese e Ferdinando Soto. Che cosa sta succedendo su Team, il progetto di rete unica, le ultime novità. Il governo Meloni ha stoppato Cassa Depositi e Prestiti e Telecom sul progetto di integrazione fra rete e telecom e quella di Open Fiber. Non è chiaro ancora il progetto del governo, scrive in primo piano Start Magazine. Sulla nuova bussola quotidiana è il pezzo invece di Gianandrea Gaiani, direttore di analisidifesa.it su von der Leyen che ha parlato sui morti in Ucraina. Una gaffa da incompetenti, secondo il direttore Gaiani. Grande dimostrazione di leggerezza e di incompetenza ai vertici dell'Unione Europea. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, parla di 100.000 morti ucraini fra i militari, 20.000 fra i civili. Cifre sensibili, coperte da segreto militare in Ucraina, ritratta, ma la pezza è peggio del buco. È il simbolo di un'Europa in mano a leader inadeguati. A proposito di Europa, l'Unione Europea blocca i fondi all'Ungheria, racconta in questo caso il quotidiano cattolico a venire. Orban deve fare 27 super riforme. L'affondo della Commissione Europea contro le violazioni dello Stato di diritto in Ungheria. Adesso però c'è l'incognita dell'approvazione finale della misura da parte dei Paesi membri, cosa che non è scontata. Per il momento lo stop non è definitivo. 7 miliardi e mezzo di fondi di coesione congelati, 5 e 8 di PNRR destinati a Budapest. La Commissione Europea non fa sconti all'Ungheria di Orban chiede il congelamento dei fondi destinati all'Ungheria per violazione dello Stato di diritto. Notizia già trapelata da giorni ieri presentata formalmente, però c'è l'incognito dell'approvazione finale da parte dei Paesi membri. Su Tempi.it vi segnalo a proposito di Europa un articolo di Mauro Zanon in particolare sulla sinistra francese, l'alleanza netflixiana tra burchini e monopattino elettrico. Il più feroce critico dei progressisti francesi è il filosofo Jean-Claude Michéat che non sopporta la deriva liberal walk dei suoi ex compagni. Mentre a proposito di Europa sempre rovinarsi per passare all'auto elettrica e non ottenere un bel niente per il clima. Il pezzo di Bjorn Lomborg se anche il mondo intero raggiungesse entro il 2030 l'impossibile transizione nei trasporti le temperature si abbasserebbero di appena 0,0001 gradi con costi esorbitanti. scrive l'ambientalista scettico è una famosa così. Intanto un attimo solo chiedo alla regia collaborazione vediamo se la nostra edicola intanto ci dobbiamo rientrare questo è l'inconveniente che capita puntualmente ogni giorno rientriamo nella nostra edicola digitale andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi lo facciamo al volo dovremmo essere in grado adesso di sfogliare le prime pagine dei quotidiani di oggi andiamo rapidamente come ce le presenta la nostra edicola a venire in primo piano i tribunali armati von der Leyen salta la corte dell'AIA e propone la presidente della commissione europea propone all'ONU vuole chiedere la creazione di un tribunale ad hoc solo per i crimini russi nell'invasione in Ucraina gli Stati Uniti appoggiano l'iniziativa ma crescono le critiche sul giudizio unilaterale inoltre sugli stessi crimini sta già indagando la corte penale dell'AIA quella a cui sono stati denunciati Salvini Minniti e Mogherini di cui sopra alla Camera asse tra maggioranza PD e Terzo Polo per confermare gli aiuti militari a Kiev nel 2023 isolati Conte e Verdi Sinistra Italiana oggi in consiglio dei ministri il decreto oggi sempre il verdetto della corte costituzionale sui vaccini c'è attesa per il pronunciamento della consulta dopo l'udienza Fiume per i dubbi di costituzionalità sollevati da 11 ordinanze relativi al decreto 44 del 21 che ha introdotto l'obbligo vaccinale da oggi scattano le multe per gli inadempienti il giudizio della corte però può avere effetto anche su questo e poi c'è un emendamento lega per congelare le eventuali multe a chi non si è vaccinato sopra i 50 anni mentre dalla prima pagina di avvenire c'è anche la questione dei profughi dalla Libia Piantedosi rilancia i corridoi umanitari insieme al ministro Tajani c'erano anche i ministri Piantedosi e Tajani ieri all'aeroporto di Fiumicino ad accogliere 114 rifugiati provenienti dalla Libia grazie a corridoi umanitari strumento a cui il ministro Piantedosi plaude la questione delle pensioni opzione donna ma anche il POS e il PNRR sono le incognite sulla manovra scrive avvenire in prima pagina vediamo la prima pagina del Corriere della Sera sui fondi europei l'allarme del governo il governo è convinto che si debbano rivedere tempi e costi per la realizzazione del PNRR fondi europei giusto appunto pesa l'effetto dell'inflazione sugli interventi programmati e ieri sono usciti allo scoperto diversi ministri nel giorno in cui a Roma sono arrivati i tecnici del PNRR della Commissione Europea a vigilare come l'Italia ha programmato le cose la previsione di spesa di 22 miliardi entro fine anno è molto lontana ha detto il ministro Fitto intanto dalla maggioranza apertura a calenda valutiamo ogni proposta ironico Salvini a calenda diamogli un cantiere dice il ministro Salvini sempre dal primo piano poi del Corriere della Sera il decreto sulla scia di Draghi per la fornitura di armi all'Ucraina e il pezzo di Ernesto Galli della Loggia sulle scelte del PD la difficile identità sinistra e tante altre belle cose mentre sempre in prima pagina sul Corriere della Sera i dirigenti della Juve intercettati ci siamo messi in una situazione di calciopoli è un'inchiesta archiviata a Milano professori e concorsi truccati per il pubblico ministero non è reato concorsi truccati all'università non è reato la cooptazione a Milano il pubblico ministero chiede di archiviare 38 docenti indagati nel 2014 viva la giustizia veloce a Bari tra cui l'attuale ministro dell'università Bernini per il GIP invece è reato ma è intervenuta la prescrizione a proposito di reati andiamo al fatto quotidiano 734 milioni tolti ai poveri per darli agli evasori e il titolo d'apertura Italia sotto sopra i risparmi sul reddito di cittadinanza coprono i costi del condono manovra piena di tagli denuncia il fatto miliardi in meno per i pensionati e la sanità 0 euro agli statali ma un miliardo e 7 per i furbi si trovano decreto Rave infila Forza Italia infila una norma pro Berlusconi per l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione la Corte l'ha già dichiarata illegittima e poi ancora in primo piano il conflitto di interessi con la gente dei VIP da parte di Renzi che vuole la commissione di vigilanza Rai ma prende soldi dalla gente presta che è il RAS degli appalti Rai conflitto di interessi Renzi vuole la commissione di vigilanza Rai ma è un collaboratore anzi collabora con lui presta prende soldi dalla gente dei VIP presta quello che cura l'immagine e i contratti di molti in tv e non solo mentre a proposito di contratti Cristiano Ronaldo 19 milioni nascosti ecco le tre carte segrete Juve finta riduzione di stipendio in esclusiva in prima pagina sul fatto quotidiano di oggi tre scritture private fra Juventus e Ronaldo per ridargli la cifra in tre scenari diversi una voce non dichiarabile a bilancio intanto il debito dei club di serie A per contributi IRPEF non versati sospesi con la scusa covid ammonta mezzo miliardo la frase sopra la testata la corte europea vieta l'accesso pubblico al registro che svela chi c'è dietro le società di comode e le scatole cinesi ma per gli italiani cambia poco perché da noi non c'è neppure e con ciò lasciamo la prima pagina del fatto c'è Massimo Fini che si occupa della bistecca di carne sintetica è il progresso le storture moderne dal fatto dicevamo andiamo a vedere la prima pagina del giorno il quotidiano nazionale la famiglia arriva la stangata badanti che succede se il governo non interviene a gennaio scatta l'adeguamento automatico all'inflazione buste paga più pesanti del 9% per le badanti pochi medici attese infinite altro tema le regioni chiedono soldi per la sanità intervista a Renzi dialogo sulla manovra il PD il futuro siamo noi noi del terzo polo cosiddetto la strage ignorata è l'altro titolo in prima pagina sul quotidiano nazionale il ciclista rebelle in travolto mentre si allenava oltre 220 i morti in bicicletta l'hanno passato quasi uno al giorno il mattino di Napoli si occupa della tragedia di Casamicio la case e strade sugli alvei denuncia dell'autorità di Bacino modificato il percorso di acqua e fango non c'era neanche il piano regolatore nell'isola di Ischia mentre il messaggero di Roma si occupa di lavoro un piano per gli under 36 potenziata intanto in manovra la decontribuzione per spingere le assunzioni agevolate dei giovani cioè degli under 36 opzione donna si cercano 80 milioni per consentire l'uscita di altre 14.000 lavoratrici poi le parole di Salvini su Roma modello Genova in campo per la corsa di Roma a Expo 33 Agnelli e il caso Juve verso il processo è come Calciopoli il tempo il tempo apre con l'articolo che abbiamo già visto prima l'intervista a Claudio Borghi Aquilini sulla questione del Parlamento ridotto mentre la Camera approva la prima parte del regolamento per adeguarsi al taglio degli eletti dal senatore leghista Claudio Borghi arriva l'allarme sui lavori al Senato è slalom tra le commissioni nessuna possibilità di esaminare i provvedimenti il nostro lavoro viene svilito e oltre ad aver complicato la vita degli eletti la riforma del taglio dei parlamentari non ha portato risparmi gli stipendi in meno sono stati compensati dal boom delle spese per energie e pensioni il risultato i bilanci 2022-24 sono identici cioè Camera e Senato come voleva si dimostrare ma l'avevamo già dimostrato in precedenza prima della riforma del taglio dei parlamentari i bilanci 2022-24 cioè dopo il taglio dei parlamentari spenderemo per Camera e Senato come prima se non più di prima ma sicuramente come prima non abbiamo risparmiato un tubo abbiamo complicato la vita del Parlamento Cristiano Ronaldo principe d'Arabia guadagnerà 500.000 euro al giorno offerta monstra dell'Al Nasr dopo l'addio al Manchester del calciatore nel frattempo il ministero chiude le cooperative dei sumaori scioglimento del consorzio oggi parte l'Itera alla Camera della manovra e a Roma buco da 400 milioni a un mese dall'approvazione del bilancio di previsione 2023 Roma scopre di avere un buco di 400 milioni di euro colpa della sentenza con la quale a metà ottobre la Corte Costituzionale ha allargato l'esenzione IMU alla seconda casa del nucleo familiare nel caso in cui questa sia residenza di uno dei due coniogi l'altra metà è per un contenzioso tra il comune e i dipendenti ma se c'è un buco a Roma non c'è problema c'è la gallina dalle uova d'oro che caga giù i soldi a Roma scusate il verbo come da antichissimo ve lo ricordate come da antichissimo manifesto leghista la gallina dalle uova d'oro mitica insomma vabbè transeat la Repubblica apre la sua prima pagina con lo scudo italiano per Kiev nel prossimo invio di armi prevista la consegna dei missili terra-aria aspide per proteggere Kiev dagli attacchi russi alla Camera il sì agli aiuti militari unisce destra PD e terzo polo nodi verdi sinistra italiana e 5 stelle addirittura Conte parla di governo guerra fondaio egli il pacifista inchiesta sulla sanità noi pazienti prigionieri delle liste d'attesa diritto negato alla salute commenta Daniela Minerva in prima pagina su Repubblica poi la foto della bicicletta accartocciata è impressionante la foto della bici di Davide Rebellin dopo lo scontro di ieri è morto il campione ciclistico la bicicletta è veramente conciata in maniera incredibile accartocciata ridotta a una ruota sopra l'altra lasciamo conciò la prima pagina di Repubblica andiamo alla stampa il governo non tocchi il reddito per fortuna esiste Robin Hood oggi il titolo dell'articolo di Marco Travaglio è Robin Hood scritto proprio al contrario con le lettere una dopo l'altra a formare la parola al contrario ebbene c'è un Robin Hood che difende i poveri per fortuna ed è non ci crederete l'amministratore delegato di Banca Intesa San Paolo Carlo Messina il reddito di cittadinanza non va toccato dice Messina intervistato dalla stampa bisogna aiutare i poveri e chi paga il prezzo più alto della crisi guardate che è vero non è cuore che è stato ripubblicato dopo tanti anni che è tornato in vita il mitico settimanale satirico dell'unità no no è esattamente la stampa di Torino di Torino si fa per dire perché chi controlla la stampa è Repubblica cioè Gedi ha la sede fiscale poi in Olanda e paga poche tasse la l'azionista di maggioranza Gedi che edita stampa Repubblica i quotidiani locali le radio controlla eccetera eccetera poi paga le tasse in Olanda giustamente loro la flat tax se la sono già fatta poi il popolo bue non può averla la flat tax cioè pagare meno tasse il popolo no loro sì compreso anche De Benedetti cittadino svizzero naturalmente ex proprietario dell'intera baracca comunque al di là di questo non è che sia un dettaglio perché chi ti predica che tu non puoi ma io posso non è simpaticissimo io posso c'è chi può e chi non può come diceva Alessandro Altobelli ve lo ricordate il centroavanti dell'Inter e della Nazionale c'è chi può e chi non può io può così dicono in molti in pochi ma che pesano molto in Italia comunque al di là del governo non tocchi il reddito per fortuna c'è un Robin Hood Carlo Messina amministratore delegato di Banca Intesa San Paolo che difende i poveri in Italia e non solo priorità ai poveri dice Messina alla stampa di Torino a quei poveri quei poveracci della Gedi che edita la stampa di Torino investire in titoli di Stato i capitali che rientrano e poi non tocchi il reddito di cittadinanza questo nuovo governo di fascisti mentre sempre dalla prima pagina della stampa nuove armi all'Ucraina questo l'abbiamo visto la politica ci dica se vuole il recovery fund Marcello Sorgi sul PD e i 5 Stelle che aiutano Giorgia Meloni Meloni è riuscita a trasformare il dibattito sugli aiuti all'Ucraina in occasione per ricompattare la maggioranza perché PD e 5 Stelle fanno i pacifisti dicono no alle armi e ricompattano Giorgia Meloni però tuttavia scusate la ripetizione dell'avversativa l'occhio cade e il cuore pure ma anche diciamo l'amore per la lingua italiana e per la sintassi sul pezzo di Concita De Gregorio c'è poco da fare in prima pagina sulla stampa quando l'occhio vede quella firma lì il cuore e anche la mente cominciano già a godere di che cosa anche del piacere proprio sintattico della lettura sapete i giovani quelli che non vanno a votare non leggono i giornali allora quelli che non vanno a votare non leggono i giornali virgola che secondo come cambia la politica sono bamboccioni sdraiati sul divano di mamma o mangia pane a ufo che sarebbe ora si cercassero un lavoro invece che pretendere il reddito paghetta di governo tutto senza una virgola perché la virgola ce l'ha già messa dopo i giornali quelli che non vanno a votare non leggono i giornali tra non vanno a votare non leggono i giornali la virgola non c'è alla fine sì quindi è una sintassi veramente il professore vabbè che era di economia politica e non di italiano ma il professore della Meloni non darebbe nove credo a questo articolo presumo presumo io gli darei dieci e lode perché è una roba oltre la sintassi per parafrasare Nietzsche al di là della sintassi quelli sì di cui tutti parlano e nessuno sa dove siano virgola a parte certo lì a fare battaglie senza virgola a fare battaglie online a computer tumulati in cameretta o a bere dalle bottiglie e fumare sugli scalini delle statue in piazza la notte virgola sgomberare virgola forza sgomberare trattino annuncia la new wave al potere punto di domanda ma voi ci avete capito qualcosa no adesso ve lo rileggo questo è il primo periodo è l'attacco come si dice no le antiche scuole di giornalismo dicevano che l'attacco di un pezzo di un articolo era fondamentale per far venire voglia di andare avanti questo è un attacco talmente diciamo come possiamo definirlo mi mancano le parole perché sono stato stupefatto rimango stupefatto stereofatto davanti a questo pezzo e quindi è difficilissimo anche trovare un aggettivo per definirlo ma l'attacco l'attacco ti fa venire sì questo fa venire voglia perché dici ma io devo trovare cosa si riesce a fare di peggio nella sintassi italiana in un articolo così devo leggerlo quindi ti viene voglia di leggerlo il risultato l'ha ottenuto sapete i giovani quelli che non vanno a votare non leggono i giornali virgola che secondo come cambia la politica sono virgolette bamboccioni sdraiati sul divano di mamma o mangia pane a ufo che sarebbe ora si cercassero un lavoro invece che pretendere il reddito paghetta di governo quelli sì di cui tutti parlano e nessuno sa dove siano a parte certo lì a fare battaglie online nel computer tumulati in cameretta o a bere dalle bottiglie fumare sugli scalini delle statue in piazza la notte sgomberare forza sgomberare annuncia la new wave al potere ecco ne ho trovato un nido l'altra sera erano pazzi di gioia e pensate a teatro ma di questo vi parlo fra un attimo perché prima ho da dirvi una cosa che ho capito con lampante evidenza guardandoli gioire non sarà l'unica ma una delle ragioni per cui non capiamo i nostri figli e loro non capiscono noi non ci vediamo non ci troviamo a vicenda è un problema di lingua esatto esatto di lingua è un problema di lingua ips ed icsit lo dice lei di lingua e di intenzioni quelle che le parole portano con sé che roba eh ragazzi questa è roba fina punt e virgola esatto punt e un punt e virgola eh facciamo vedere che non siamo provinciali lo dà lascia fare che dica che noi siamo provinciali eh appunto è appunto concita De Gregorio fantastico è il pezzo del giorno la verità cosa ci racconta dei cinesi d'Italia tifosi del covid zero così abbiamo imitato una strategia disastrosa da Ricciardi a Speranza Burioni Crisanti Cartabellotta Corriere della Sera sono i cinesi d'Italia in tanti incitavano a seguire il modello Pechino ora dicono che eliminare il virus è un'utopia ma fino a ieri hanno evocato il nemico da sconfiggere primo fra tutti Mattarella slitta la sentenza della consulta sull'obbligo vaccinale si parla di altruismo se il criterio è questo così la verità Calciopoli Juve a processo giocatori in fuga si domanda Giorgio Gandola e poi Maurizio Belpietro gli scudieri del PD scoprono adesso la sanità malata dopo dieci anni di tagli c'è anche Macron prima pagina Claudio Antonelli se ne occupa negli Stati Uniti va il presidente francese per farsi aiutare a comandare nell'Unione Europea Autospazio Cina Giacomo Amadori la cooperativa dei suma oro è falsa irregolarità non sanabili liquidazione coatta per la cooperativa Caribù che è una ditta a conduzione familiare o un'associazione ma certo non una cooperativa eppure ha potuto incassare 60 milioni per l'accoglienza la camera spinge il governo allontana il ricatto del MES titola ancora la verità Martino Cervo in prima pagina stopa la riforma del meccanismo salva stati per il momento il governo ha detto no al meccanismo europeo salva stati il MES giusto appunto una sorta di prestito anche quello un cappio di prestito per il governo italiano per i cittadini italiani e infine agenzia delle entrate bastonata dal TAR perché viola logica e regole ma 3900 assunzioni verranno fatte dall'agenzia delle entrate questo ce lo racconta Italia Oggi tra poco Francesco Borgonovo allucinante storia nel milanese rifiuta di abortire le tolgono il bambino 13enne tradita dal sistema dei servizi sociali e poi cortocircuito green consumano troppo Berna la Svizzera ferma le auto elettriche infine San Francisco Shock Polizia dei Liberi Robot con la licenza di uccidere San Francisco sta per dotarsi California di una pattuglia di robot comandati a distanza potranno essere fatti esplodere in situazioni critiche per sventare un crimine modalità simile all'uso dei droni che apre gli stessi dubbi etici dobbiamo prima della pausa andare a vedere anche la prima pagina di Libero i nuovi mostri alla Dino Risi apre Libero stamattina i nuovi mostri sono Elsa Fornero chi è di destra ha delle colpe ha detto l'ex ministra Lady Sumahoro che denuncia tutti e chiede soldi Gustavo Zagrebelsky è merito giurista che odia gli studenti con buoni voti e la scrittrice Michela Murgia per la Murgia le querele giuste sono soltanto le sue a centro pagina sia le armi all'Ucraina solo 5 stelle vota contro sacrifici per i pensionati aumenti ai dirigenti statali perché stoppa le rivalutazioni ma nei ministeri i dirigenti statali magnano più di prima è morto il diciottesimo anniversario è morto diciotto anni fa Andrea Spada prete intelligente e grande dell'eco di Bergamo lo ricorda Vittorio Feltri che lavorò per lui il sacerdote che moltiplicava i giornali con ciò lasciamo Libero e andiamo a vedere rapidissimamente i nostri amici del quotidiano di Sicilia si salvi chi può Ischia è solo l'ultima di una serie di tragedie annunciate scrive QDS l'Italia è una bomba orologeria con un territorio estremamente fragile tra abusivismo e condoni adesso presenta un conto salatissimo in termini di vittime e di danni e poi a centro pagina la questione delle start up i protagonisti dello sviluppo a confronto a Catania nell'innovation lab di Enel Green Power prima edizione di Sios 22 Sicily Edition grande attesa per la tecnologia della nascente Gigafactory un momento di confronto sull'innovazione in Sicilia sul futuro di un'isola il 30% delle start up siciliane si afferma nella produzione di software facciamo in tempo a dare un'occhiata alla prima pagina di Italia Oggi perché c'è una notizia interessante arruolati contro l'evasione che succede per contrastare le frodi fiscali la legge di bilancio la famosa finanziaria di cui sopra autorizza l'agenzia delle entrate nei prossimi due anni ad assumere 3.900 persone con contratto a tempo indeterminato una bella cifra 3.900 persone relativi stipendi assunzione a vita contratto indeterminato l'agenzia delle entrate autorizzata ad arruolare 3.900 persone a tempo indeterminato per rafforzare il contrasto all'evasione fiscale internazionale e delle frodi nonché a rafforzare il presidio preventivo connesso all'attribuzione e operatività delle partite IVA previsto dalla legge di bilancio 2023 complimenti viene da dire questa qui è una bella notizia per chi per i contribuenti naturalmente per il cittadino 3.900 assunzioni per combattere l'evasione fiscale sembra una notizia da governo del PD a essere onesti francamente comunque viva l'Italia stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio c'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta